Albano. La figlia Jasmine lascia tutti senza parole. Se a Sanremo cantassi con mio padre. Albano e Jasmine Carrisi. Padre e figlia sono diventati ormai famosi anche come coppia dopo aver partecipato. Riscuotendo successo e ammirazione. All'ultimo programma di Antonella Clerici. The Voice Senior su Rai 1. Se fino a poco tempo fa Jasmine Carrisi era conosciuta solo per essere la primogenita nata dal rapporto tra Albano e Loredana Lecciso. Ora che è ormai una bellissima 19enne è diventata abbastanza famosa. Oltre che per i genitori conosciutissimi. Anche per aver inciso il suo primo singolo ego che su YouTube ha avuto numerosissime visualizzazioni. Albano è sempre stato un padre severo ma giusto con i suoi figli. Due dei quali. Jasmine e Bido avuti dal rapporto con Loredana Lecciso. Sua attuale compagna. E. Se i primi hanno in parte seguito le sue orme di cantante. Per esempio Iari che prova a cimentarsi con la musica. Jasmine pare abbia proprio una vocazione. E così. Dopo aver inciso il suo primo singolo è stata voluta da Antonella Clerici a far parte della giuria di The Voice Senior in coppia con il padre. Albano. I due hanno accettato di buon grado questa proposta anche se in tanti hanno storto il naso sostenendo che Jasmine sia solo una raccomandata e che senza quel cognome famoso nessuno l'avrebbe cercata. A sua difesa è scesa sia la stessa Antonella Clerici che ha ribadito di essere stata lei a volerla e sia Maurizio Costanzo che ha detto che è normale che un padre. Laddove possa. Aiuti i propri figli nel mondo lavorativo qualunque esso sia e che ciò che è accaduto ad Albano e alla figlia Jasmine accade in ogni ambito lavorativo. Le parole di Jasmine Carrisi circa la partecipazione a Sanremo in coppia con il padre. Novella 2000 ha intervistato Jasmine Carrisi e la ragazza ha risposto ad una domanda che in tanti si sono posti. Se le piacerebbe andare a Sanremo con il padre Albano. Jasmine ha risposto così. Sanremo mi piace tantissimo. Ma non penso che lo farei mai al fianco di mio padre. Perché la mia partecipazione non sarebbe credibile. Poi Jasmine ha detto a proposito del rapporto con Antonella Clerici nell'ambito dell'esperienza The Voice Senior. Lei per me è stata fondamentale. Antonella Clerici è stata molto materna e il suo supporto mi ha aiutata tanto. Salmo Isla. Se la mia partecipazione è stata fondamentale. Sì. 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 Sì.